Buongiorno, buongiorno cari telespettatori di Coffee Break, buon avvio di settimana, la settimana che ci porterà domenica alla madre di tutte le elezioni, le elezioni europee. Buongiorno Matteo Salvini, ministro dell'interno, vice premier e capo politico della Lega. Salvini, ha passato una notte tranquilla, aspetti, glielo dico così per chi si è fosse perso un pezzo. Lei proprio qui ieri sulla 7, durante non è l'arena, ha preso in diretta dello sbarco dei migranti della Sea-Watch a Lampedusa, su ordine del procuratore di agrigento patronaggio che ha sequestrato la nave, mentre lei stava dicendo l'esatto contrario, non sbarcherà nessuno. E mentre, mi pare, Di Maio, l'altro vice premier, le stava facendo il controcanto, dicendo che i magistrati sono indipendenti dal governo e che le deve studiarsi le norme. È così? Ho riassunto bene? Ma guardi, io parto dai numeri, perché la politica è passione, sono numeri e poi domenica si vota per l'Europa e quindi spiego cosa faremo in Europa, visto che tutti non parlano di Europa. Ma adesso ne parliamo, come no, di Europa? I numeri dicono che grazie alla politica del rigore, del controllo, dell'attenzione, dei porti chiusi, noi abbiamo ridotto del 90% i morti e i dispersi in mare. Non solo gli sbarchi, quindi i problemi per gli italiani, i reati, i costi di 5 miliardi all'anno, ma anche i morti e i dispersi in mare. Nel 2019, per intenderci, i corpi senza vita recuperati nel Mediterraneo sono stati due a fronte dei mille degli anni precedenti. Quindi i porti aperti creavano il disastro, come ricorda Papa Francesco. La politica dell'attenzione salvava vite. Per questo che io ancora ieri ho detto se c'è da sequestrare la nave la si sequestri, perché è una nave illegale, che non ha rispettato le regole, che se bisogna arrestare il comandante, l'equipaggio va bene, ma a mio avviso è un segnale pericoloso quello di far scendere altri immigrati, perché altri scafisti, se vedono che alla fine ce la fanno, mettono altre donne e bambini in acqua facendo rischiare di morire. Poi il procuratore di Adrigento ha imposto questa iniziativa, senza avvisare il ministro dell'interno che non ha dato nessuna autorizzazione. È un paese strano. Ma lo denuncierà? No, ma se c'è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, chiunque agevoli lo sbarco di immigrati irregolari portati da nave fuori legge, dovrà vedersela con la legge. Poi questo procuratore è quello che peraltro mi ha denunciato per sequestro di persona, quindi evidentemente non gli sono in massima simpatia, però io faccio le cose che ritengo giuste per il mio paese, ma anche per queste donne e questi ragazzi che rischiano di morire, e ad oggi sono orgoglioso che rispetto ai 10.000, ai più sbarchi dell'anno scorso, siamo a quota 1000. Mi spiace che questo sia terreno di scontro politico, perché quando si parla di vite umane non dovrebbe esserci il tutti contro tutti, questo vale per Renzi come per Di Maio, perché più o meno dicono le stesse cose non solo su questo ma su altri temi, il PD e i 5 Stelle nelle ultime settimane, però io continuo a fare il mio lavoro. Senta, prima della pubblicità, così poi facciamo una cavalcata verso tanti temi, compresa l'Europa che ci interessa molto. Lei ha detto che la Sea-Watch va affondata? Le navi pirate illegali, una volta sequestrate, devono essere messe in condizioni di non essere più utilizzate, perché questa stessa Sea-Watch, già un'altra volta, era stata bloccata, era stata indagata e poi erano ripartiti tranquillamente. Vanno messe in condizioni di non nuocere più. Anche perché, ricordo a chi è a casa, che coi soldi delle traversate gli scafisti comprano armi e droga. E io non voglio che ci siano imbarcazioni in mezzo al Mediterraneo che servano a comprare armi e droga. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità con Matteo Salvini. Allora, Ministro Salvini, intanto le faccio questa domanda. Oggi ci sarà questo famoso Consiglio dei Ministri in cui si dovrebbe esaminare il decreto famiglie, sostenuto fortemente da Di Maio, e il decreto sicurezza bis, che invece lei ha chiesto. Ci saranno questi provvedimenti? Ci sarà il Consiglio dei Ministri? Sì, sì, sono qua apposta. Cioè, faccio il Ministro per andare... Dice, non viene solo a coffee break, devo fare anche il Consiglio dei Ministri. Sì, oggi ho un'iniziativa con Fargianato, sugli anziani, per contrastare le truffe agli anziani. C'è un fondo del Ministero dell'Interno per aiutare gli anziani vittime di truffe, che ormai sono purtroppo a decine di migliaia. Poi ho un intervento sulla mobilità, l'ambiente, però faccio il Ministro e quindi il decreto sicurezza è pronto. Ci sono norme contro i camorristi, con assunzioni personali per mettere in carcere i condannati, che purtroppo sono ancora a spasso, contro gli scafisti, contro i teppisti da stadio enorme che aumentano le sanzioni per chi aggredisce poliziotti, carabinieri, medici, infermieri, vigi del fuoco. Cioè, la gente indivisa in servizio che lavora, perché non è civile, quindi mi auguro che stasera... Ma l'accordo con il Movimento 5 Stelle c'è su questo decreto? Sì, sì, noi l'abbiamo mandato a tutti gli uffici, a tutti i ministeri, ognuno ha fatto le sue segnalazioni, se ci sono miglioramenti, suggerimenti, proposte, sono disponibilissime a raccoglierli, l'importante è fare, partire. Senta, l'altro giorno l'ONU ci ha mandato una lettera dicendo che questo decreto viola i diritti umani. E diciamo, lei e Di Maio, cosa che nelle ultime settimane non era accaduta, vi siete ritrovati d'accordo, Di Maio ha detto, ma come, non l'abbiamo nemmeno discusso, lei ha detto che le Nazioni Unite si occupino, per esempio, del Venezuela, insomma, e non si dedichino ad altro. Ma come si spiega questa lettera? A chi toglieremo qualcosa? Ma non so, l'ONU, ripeto... Ma ce l'hanno con lei, sono... Guardi, ci sono norme, contro i camorristi non penso che l'ONU difenda i camorristi. Lei sa che... Contro gli scafisti, non mi sembra che l'ONU possa difendere gli scafisti. Insomma, la questione migranti è quella che... Ho capito, ma se ha un paese civile, se arriva in Italia rispettando le regole, sì, dovrebbe essere così. A meno che l'ONU non difenda i trafficanti di esseri umani, io vado avanti. Comunque, se io dovessi aspettare il consenso di tutti questi geni che ci sono in giro per l'Europa, per il mondo, ad esempio la legge Fornero non l'avrei mai potuta smontare. E quindi vado avanti, serenamente. Senta, questa sua riflessione mi fa tornare alla domanda iniziale. Ma per chiederle una cosa, lei che gira l'Italia continuamente, anche non solo per la campagna elettorale, no? Cioè, ieri un magistrato ordina lo sbarco. Lei, mentre era in diretta televisiva, dice, per me non deve sbarcare nessuno. Il ministro Di Maio che le fa il controcanto. No, la domanda che le voglio fare è questa. Ma gli italiani, no? Non solo chi vota Lega o vota il 5 Stelle, anche tutti gli altri italiani che non vi amano, diciamo così. Ma che idea si fanno di come funziona lo Stato? Chi comanda? Ma guardano i risultati. Gli italiani, al di là dei dibattiti giornalistici, televisivi, che sono interessanti, poi guardano se la loro vita cambia in meglio. Se vanno in pensione grazie a quota 100, se sono partite IVA e quest'anno pagheranno il 15% di tasse, se come promesso riusciranno a rottamare la cartella di Equitalia che li teneva in ostaggio da una vita, se troveranno lavoro grazie alla revisione della legge Fornero, guardano la legittima difesa che è legge, notano che i reati o gli ultimi dati sono diminuiti del 15% grazie al lavoro di polizia e carabinieri. Quindi guardano i risultati. Poi le beghe politiche, questo ce l'ha con quello. Ma disorientano le beghe politiche? Secondo lei questo braccio di ferro tra le di Maio non è un po' stucchevole? Perché appunto i problemi sono altri. Infatti io non rispondo, io ho smesso di rispondere alle beghe, alle domande, lavoro, mi dicono Tizio ti ha insultato, Caio ti ha minacciato e quell'altro ti ha denunciato. Amen. Avanti, tranquilli. No, no, io come dire, apprezzo la sua carma serafica, però le faccio una domanda molto precisa. Oggi un suo ascoltato consigliere, il sottosegretario Giorgetti sulla stampa dice il Movimento 5 Stelle ci sta facendo opposizione, Conte non è più super partes, il governo è paralizzato. Diciamo dando voce anche a quello che molti parlamentari ed esponenti di governo della Lega pensano. Ma quanto può durare tutto questo? No, ma se tutti mantengono la parola data e lavorano per l'Italia, si va avanti cinque anni. Il problema sono i no. Ultimamente, da parte dei 5 Stelle, in sintonia peraltro col PD di Renzi e Zingaretti che sentivo avevate primo ospite, ci sono stati tanti no. E no all'autonomia, e no alla flat tax, e no all'apertura di alcuni cantieri, e no al decreto sicurezza bis. No, 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 però l'Italia ha bisogno di sì, ha bisogno di aprire questi cantieri, ha bisogno di lavoro. Ma lo sai che se lo chiedono tutti? Però penso che sia la campagna elettorale. Ma se invece dopo una campagna elettorale i no proseguissero, che succede? Ma no, il no alle ferrovie non danneggia Salvini, ferma l'Italia. L'emergenza in questo Paese è il lavoro, è il lavoro. Al di là della questione sicurezza e immigrazione, che mi sembra di aver riportato sotto controllo, è il lavoro. Soprattutto per i giovani, ci sono alcune regioni del Paese, Calabria, Sicilia, Sardegna, dove un ragazzo su due non ha prospettive. L'unico modo per rinanciare il lavoro è abbassare le tasse a chi crea lavoro, alle imprese. La proposta di flat tax, di tassa unica della Lega, è pronta. Per tutti, lei dice, al 15%. Per questo ovviamente bisogna cambiare alcuni vincoli europei e alcuni limiti imposti da Bruxelles. Per questo il voto di domenica è fondamentale, perché l'Europa poi c'entra in casa, c'entra in frigorifero con quello che mangiamo, c'entra sul conto corrente. Io sono convinto, e già cinque Paesi europei l'applicano, che una tassazione unica, il 15%, farebbe correre l'Italia. Darebbe un sacco di energia ai giovani, alle imprese, assunzioni. Gli imprese straniere verrebbero a investire qua perché siamo il paese più bello del mondo, da tutti i punti di vista. Però bisogna avere coraggio. E quindi dovrebbe essere il primo argomento di discussione in Consiglio dei Ministri. Mentre sento che, sì è vero, Salvini ha ragione, però ne parliamo fra un po', ne parliamo in autunno, ne parliamo in inverno, ne parliamo l'anno prossimo. Abbassare le tasse, ovviamente non tutto per tutti adesso. Non è che io venga qua a dire votatemi domenica perché cancello le tasse. No! Abbassare progressivamente le tasse a tutti, non solo alle partite IVA, agli artigiani, come abbiamo fatto, ma agli imprenditori, alle famiglie, ai dipendenti, e a tutti quelli che pagano, anche l'IRPEF, anche i pensionati, si può fare. Anzi, io dico si deve fare. Ma bisogna trovare un sacco di soldi però, o no? I soldi arrivano se la gente lavora, perché questi anni hanno dimostrato che a furia di tagliare, tagliare e non assumere medici, e non assumere poliziotti, togli i soldi ai comuni, chiudi gli ospedali, il debito cresce. Perché se gli italiani non lavorano, non pagano le tasse, il debito cresce. L'unico modo per far scendere il debito è far lavorare più italiani, riducendo le tasse. Ecco, su questo spero che da settimana prossima il Parlamento e anche i 5 Stelle tornino più positivi, costruttivi, dialoganti. Senta, è Europa, no? Lei ovviamente si augura legittimamente un successo dei sovranisti, mettiamola così per capirci. Alcuni sondaggi ci dicono che forse non sarà così, cioè che i sovranisti guadagneranno molti consensi, ma che non avranno la maggioranza all'Europarlamento. Con chi si mette d'accordo lei? Con i popolari? La Merkel ha detto, io Salvini non ce lo voglio. Sicuramente non con la sinistra. La sinistra è quella dell'immigrazione di massa. Leggevo polemiche in queste ore sui giornali sul rosario. Sì, la Chiesa, insomma, attraverso varie voci ha detto le strumentalizze simboli religiosi. L'Europa ha avuto la faccia tosta di negare in Costituzione Europea le nostre radici giudaico-cristiane. Cioè, sarebbe come negare che oggi è lunedì. No, oggi non è lunedì. Secondo qualcuno a Bruxelles oggi è giovedì. Noi veniamo da una civiltà che parte da Gerusalemme, da Atene, da Roma. E quindi siamo questo. E io rivendico con orgoglio la nostra cultura, le nostre radici. E cerco da ultimo dei buoni cristiani di applicarlo nella vita di tutti i giorni. salvando vite, ripeto, aiutando gli ultimi, italiani o stranieri che siano. Quindi, in un momento in cui qualcuno vorrebbe togliere i crocifissi, i presepi, Gesù Bambino, il Natale, la Pasqua, secondo me è bello dire chi siamo. Ma non che siamo superiori ad altri. Però l'Italia è questa, nel bene e nel male. E la scelta sull'Europa è anche una scelta, ovviamente, di lavoro. L'Europa decide sulle banche, e io voglio cambiare la direttiva sulle banche, perché ha condannato troppi risparmiatori. L'Europa decide sull'agricoltura, su quello che mangiamo e su quello che beviamo. E io vorrei finalmente vincere la battaglia per il Made in Italy, per difendere i prodotti italiani. Non solo quello che beviamo e mangiamo, ma anche il nostro mobile, il nostro tessile. Ed è una battaglia che si vince a Bruxelles, perché è lì che da anni ci impediscono il Made in Italy, obbligatorio. Quindi l'Europa entra in casa nostra. Però sono anche valori. E quindi io rivendico con orgoglio la nostra cultura, la nostra tradizione. A proposito di valori, non per fare un passo indietro, le chiedo due cose molto rapidamente. Ma i cattolici votano per la Lega, secondo lei? I cattolici sono donne e uomini liberi. E quindi ci sono tanti cattolici che votano per la Lega e ci sono cattolici che voteranno per altri. Non pretendo di rappresentare qualcuno. Se siamo primo partito in Italia e domenica saremo fra i primi partiti in Europa, è evidente che ci votano tanti cattolici, ma ci votano anche persone... Io ieri ero a Sassuolo, in provincia di Modena. Il distretto della ceramica. Il distretto della ceramica. Ho trovato tanta gente che dopo l'incontro si è fermata e io mi ricordo alcuni che soprattutto mi hanno detto io non ho mai votato. Io non votavo da vent'anni. Perché la politica è promessa tra ditte. E Salvini è riuscito invece a convincerli. E con i fatti, con la legge Fornero, con Equitalia, con la sicurezza, con la legittima difesa, con la riduzione fiscale. I fatti convincono, al di là delle grandi... I fatti, dico, questa settimana in Senato passa il finanziamento per accendere le telecamere che voi usate per le trasmissioni negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo. Per difendere bimbi, anziani e disabili. Un finanziamento di 130 milioni di euro in tre anni. Questi sono fatti. Da quanti anni se ne sente parlare? Ogni volta che viene picchiato un bambino in classe, maltrattato un anziano, picchiato un disabile. Fatti. Gli italiani si aspettano fatti. Le dispiace non essere mai stato ricevuto da Papa Francesco? No, mi piacerebbe, non l'ho mai chiesto. Leggo anche qua sui giornali. No, 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 diciamolo. È una delle persone più importanti, più affascinanti, più stimolanti che ci siano. Come lo furono San Giovanni Paolo II, come lo è stato Benedetto XVI, quindi avrei solo da imparare. E quindi se ce ne sarà l'occasione, più che volentieri. Fermo restando che Papa Francesco, che fa il Papa, ovviamente, è il suo più fiero avversario sulla questione migranti. No, ma guardi, il catechismo della Chiesa Cattolica, io poi non faccio il prete, quindi... Però dice che l'accoglienza è un dovere nei limiti del possibile. Ora, io conosco tante periferie italiane e i limiti del possibile a Roma, come a Milano, come a Torino, come a Palermo, sono stati superati. Nel senso che l'integrazione con lo straniero è possibile se c'è rispetto, se l'immigrazione è positiva, è qualificata. Se ci sono alcuni quartieri che diventano dei ghetti, non c'è integrazione. Quindi accogliere donne e bambini in fuga dalla guerra? Sì. Ma quanti spacciatori sono sbarcati negli ultimi anni? Quanti scippatori? Quanti stupratori? Non penso che il Vangelo mi imponga di accogliere scippatori e spacciatori nel mio paese. Dai. Senta, i suoi alleati storici del centro-destra, Giorgia Meloni e Berlusconi, hanno detto diverse cose. Adesso ne parliamo. Intanto le faccio sentire l'altro giorno, proprio sempre qui sulla Sette, cosa ha detto, a proposito anche dei rapporti con la Lega, Silvio Berlusconi. Sentiamolo. Dal 5 marzo, quando ci sono state le elezioni l'anno scorso, tutte le elezioni regionali e amministrative che ci sono state, le abbiamo vinte insieme. Devo andare in pubblicità e lei mi capisce. Lo so che mi capisce, torniamo subito. Voglio solo dire che in Sicilia non c'è stata per certe città questa unione tra noi e la Lega. Perché mancava lei. E la Lega ha perso. Ecco, così parlo Berlusconi, Giorgia Meloni ha detto mettiamoci insieme e forse avremo la possibilità di avere i numeri, però forza Italia in questa futura alleanza non ci deve essere perché Berlusconi ancora l'altro giorno ha detto, ha rievocato il nome del presidente uscente della Bicina, Draghi, che potrebbe avere un ruolo politico istituzionale importante. Come stanno le cose con Berlusconi? Ce lo spiega una volta per tutte, Salvini? Umanamente, politicamente c'è condivisione, affetto, rispetto. Però domenica si vota per l'Europa. Chi l'ha governata questa Europa per tutti questi anni? A livello italiano l'asse PD forza Italia. Cioè in Europa governano da sempre popolari e socialisti, democristiani e sinistra, che tradotto in Italia sono PD e forza Italia. Quindi è chiaro che se io voglio cambiare l'Europa, attenzione, se qualcuno a casa dice a me vanno bene le regole di questa Europa, sulle banche, sul commercio, sui giovani, sulla disoccupazione, sulla povertà, sull'agricoltura, scegliete quelli che questa Europa la governano da sempre. Se si vuole cambiare, è chiaro che la si cambia con chi ha le idee chiare, come la Lega, e in Italia sta dimostrando di essere concreta e efficiente. Poi da lunedì parleremo di equilibri interni, dei gruppi che si formeranno. Ah, io vedremo a Bruxelles. Però io governi strani in Italia non ne faccio usando il voto europeo, per intenderci. Il voto europeo è fondamentale per l'Europa. Mi alleo con chiunque mi aiuterà a cambiare questa Europa, quindi non con la sinistra. Quindi in Europa lei si è pronta ad allearsi con chi è disposto a cambiare le regole europee. Con chiunque, senza guardare etichette, se mi propongono di sostenere le nostre idee sul lavoro, sui giovani, sul futuro, sul controllo dei confini, evidentemente. Non ha parlato di economia però anche, sull'austerity. No, no, assolutamente. Bisogna rivedere le norme fiscali europee perché stanno portando una marea di disoccupazione in tutta Europa, non solo in Italia. Guardate in Grecia, guardate in Spagna, guardate in Finlandia. La Germania rallenta. Le regole vanno riviste. Bisogna permettere ai paesi di crescere. Senta, ma quei paesi con cui lei potrebbe allearsi sono quelli più occhiuti sui nostri conti pubblici, quelli che più ci hanno messo nel mirino. Come si fa? Il bello è che noi non abbiamo soldi da chiedere agli altri perché l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa, questo è importante che ce lo ricordiamo, che dà più rispetto a quello che riceve. Quindi io non voglio i soldi dei greci, dei tedeschi. No, io ti do quello che ti sto dando, ma quelli che io uso in Italia fammeli usare come voglio. Cioè, perché a Bruxelles qualcuno mi dice non toccare la legge Fornero? Qualcuno vorrebbe che aumentassimo l'IVA per 20 miliardi, una mazzata per le famiglie, per i commercianti, ma ti pare che io vada ad aumentare l'IVA? Quindi siccome sono soldi nostri, lasciate di gestire noi. C'è bisogno di uno shock fiscale positivo, come Trump negli Stati Uniti, come in Giappone. Ma come lo shock fiscale a cui lei fa riferimento, non credo possa avvenire già dalla prossima legge di bilancio. Queste risorse, dove le troviamo queste risorse? Ma le risorse ci sono in Italia. Le risorse in Italia ci sono. Al di là del taglio degli sprechi, per carità di Dio, su cui si sta lavorando. Vabbè, sai che ogni governo ha parlato di tagliare gli sprechi. L'unico modo per far correre l'Italia, per tornare a sognare, a lavorare, a sorridere, è spalancare il mondo del lavoro, riducendo le tasse alle imprese. Nel primo anno lo Stato incasserà di meno. Sì, chiaro ed evidente. Ovunque l'abbiano fatto, dalla Russia agli Stati Uniti, al Giappone, all'Ungheria, è chiaro che se abbassi le tasse, nel primo anno lo Stato incassa di meno. Dal secondo anno lo Stato incassa di più, perché ci sono più persone che lavorano e pagano le tasse. Ma lei è sicuro che anche tutta l'evasione poi torna in superficie? L'unico modo per sconfiggere l'evasione fiscale è abbassare le tasse. Allora, qualcuno diceva in passato che pagare le tasse è bello. Ora, uno può essere l'uomo più onesto del mondo, però non penso che ci sia nessuno davanti al televisore che dica non vedo l'ora che arrivi fine mese per pagare le tasse. No, pagare le tasse non è bello, deve essere possibile. Se io ti chiedo il 60% è complicato e se riesco ti frego per sopravvivere. Se io ti chiedo il 15% o il 20%, ma gli italiani corrono a pagare le tasse. Se la pressione fiscale è ragionevole, dal suo punto di vista tutti pagherebbero le tasse. Assolutamente sì. Senta, le do una notizia, intanto indagato il comandante della Sea-Watch per favoreggiamento e immigrazione clandestina. L'ha iscritto alla procura di Agrigento non è registro degli indagati, è appena arrivata la notizia. Quindi non era Matteo Salvini che era cattivo con le ONG che diceva che questi aiutano gli scafisti, i trafficanti e favoreggiano l'immigrazione clandestina. Questo conferma evidentemente quello che sostengo da mesi. Perché io ho detto porti chiusi e stop alle ONG? Perché aiutano gli scafisti. E se c'è una procura che finalmente dice che questi aiutano gli scafisti, il mio lunedì è un bel lunedì. Ecco, a dispetto dei suoi rapporti con padronaggio. E' d'accordo con Berlusconi? A me... Cioè, qualcuno può far sorridere, però invece è una questione molto importante. Berlusconi ha detto all'Europarlamento io difenderò gli animali e i loro diritti. E' d'accordo su questa battaglia? Consideri che in Italia ci sono moltissimi possessori peraltro di animali... Io la faccio domani da Ministro dell'Interno. Berlusconi può dire farò. Io domani sono in Puglia e mercoledì visiterò un canile a Bari perché come Ministro dell'Interno io mi occupo della sicurezza degli esseri umani ovviamente a due zampe ma anche a quattro zampe. Abbiamo istituito un fondo per combattere il randagismo per premiare regione per regione i canili migliori ed è pronto un progetto di legge da tempo questo per aumentare le pene a chi abbandona o maltratta gli animali. Berlusconi si dice anche agli allevamenti intensivi in generale. Io sono d'accordo in linea di principio però da Ministro io lo faccio. Berlusconi è l'opposizione quindi può dire lo farò. Noi lo stiamo facendo. Facendo. Per quello che mi riguarda chi abbandona il cane in autogrill la paga cara. La paga tutta e la paga fino in fondo. Te le faccio ancora un paio di domande così poi la lascio alla sua fitta agenda. Non so se ha visto Google ha rotto ogni rapporto con Huawei seguendo la linea diciamo di Trump che insomma tra Dazzo e altro ha scatenato una vera e propria guerra commerciale con la Cina. Lei a proposito del famoso memorandum sottoscritto dal nostro governo con la Cina la via della seta fu diciamo tiepido ma oggi cosa ne pensa? Che è importantissimo aiutare le nostre imprese a esportare. Gli imprenditori italiani sono eccezionali e quindi se c'è un governo che li aiuta a portare i nostri prodotti in Cina piuttosto che in Argentina negli Stati Uniti in Canada o in Sudafrica benissimo. Altro paio di maniche sono le alleanze a livello internazionale e la sicurezza nazionale. Ma la Cina è una minaccia dal suo punto di vista? Beh sicuramente non è una democrazia sicuramente dietro le imprese statali c'è il governo quindi ogni investimento cinese è dettato dalla volontà di presidiare guardiamo cosa sta facendo in Africa stanno investendo centinaia di miliardi di euro ma non perché sono buoni evidentemente per occupare prendere materie prime quindi i dati sensibili quello che c'è sui nostri telefonini i dati medici degli italiani i dati dei nostri conti correnti dei nostri risparmi postali devono essere italiani quindi io l'ho detto al Presidente del Consiglio a Di Maio se ci tratta di commercio per carità di Dio aiutiamo le imprese però sulla sicurezza nazionale cioè le questioni strategiche sono un'altra cosa non voglio che un paese che comunque non è una democrazia cioè io mi confronto con Israele mi confronto con gli Stati Uniti mi confronto con chi volete voi con un paese che non è una democrazia e che ha un notevole spirito di imperialismo e di controllo no cioè se vuoi aiutarmi a investire sul porto di Trieste o sul porto di Genova per carità di Dio ma il controllo deve essere italiano senta le ricito Giorgetti perché si dice che Giorgetti siccome Di Maio ha detto che Salvini è come Renzi Giorgetti tempo fa disse tenete una foto di Renzi nella vostra stanza come ammonimento questo mi permette di chiederle questo da quando è diventato ministro in questo quasi anno di governo c'è qualche errore importante che lei riconosce di aver fatto e soprattutto è molto affascinato dal potere quotidianamente no il potere no il potere mi serve per fare io sono stato per anni all'opposizione e quindi venivo alla 7 a dire mi piacerebbe fare mi piacerebbe cancellare la legge Fornero mi piacerebbe bloccare gli sbarchi mi piacerebbe combattere la mafia mi piacerebbe una legge sulla legittima difesa mi piacerebbero le telecamere negli asili nido però se si è l'opposizione puoi proporlo se si è il governo non godo di essere ministro perché sono ministro ah ministro Salvini al governo fai e anche in Europa sono sempre stato all'opposizione mi piacerebbe difendere il Made in Italy le aziende italiane i giovani italiani se vado al governo passo ai fatti poi di errori ma ne farò 10 durante la giornata di errori quelli che non sbagliano sono quelli che non fanno i piccoli errori sulle grandi questioni che hanno molto scatenato polemiche c'è qualche ripensamento da parte sua io vado ai risultati e se i reati in questo 2019 rispetto al 2018 calano del 15% ovviamente non grazie a me grazie a polizia grazie a carabinieri io però sto facendo assumere 8 mila poliziotti carabinieri pompieri finanzieri che è una roba che non si faceva da anni e quindi una piccolissima parte di merito me la prendo e la do agli italiani perché quello che sto facendo lo sto facendo grazie al voto degli italiani dell'anno scorso e spero grazie al voto degli italiani domenica prossima Salvini chiudiamo con queste ultime due cose Di Maio ha detto se Rixi il vice ministro delle infrastrutture che è un altro suo uomo di fiducia dovesse essere condannato le spese pazze alla regione Liguria chiederemo ovviamente che lasci il suo incarico di governo lei che cosa farà farà come consigli? ma se ma lasciamo che i giudici facciano il loro mestiere e però insomma c'è un altro raggio da parte del suo alleato di governo ma devo pre-commentare delle indagini non faccio il magistrato faccio il ministro dell'interno combatto mafia camorra e indrangheta e quindi qualora si ponesse il problema ne riparleremo ed anche perché si sarà scavallato il 26 di maggio senta nella cosiddetta seconda repubblica in Italia chiunque ha governato poi ha perso le successive elezioni politiche perché secondo lei? ma perché probabilmente gli italiani non erano più abituati a qualcuno che prometteva prima del voto delle cose poi le faceva dopo io sono pieno di difetti sono l'uomo con più di difetti al mondo però in giro per l'Italia da nord a sud mi dicono sulla legge Fornero lo stai facendo sulle tasse lo stai facendo sulla legittima difesa lo stai facendo su Equitalia lo stai facendo sull'immigrazione lo stai facendo e quindi conto di ma non per continuare a fare il ministro perché è bello è entusiasmante la cosa più bella che mi potesse accadere è faticoso se lo fai bene è impegnativo quindi spero di non farlo per troppi anni e spero che qualcuno dopo di me lo faccia anche meglio di me però conto di farlo ancora perché l'Italia ha bisogno senta sia lei che Di Maio al di là di quello che vi dite tutti i giorni sostenete che questo governo andrà avanti se dovesse dare una percentuale che percentuale darebbe alla resistenza mettiamola così del governo giallo-verde da parte mia al 100% poi siamo in due in una coppia se ci sono marito e moglie il marito può dire se Dio Di Maio che ha detto io non sono la moglie quando lei ha detto io sono il marito se vuoi ti dico che sono la moglie è intercambiabile ma non era vero spieghiamoci se siamo in due da parte mia se tutti mantengono la parola data il problema non si pone e la Lega è garanzia di tranquillità e di prosecuzione in Italia certo ripeto io no non ne ho detti anche su provvedimenti che non erano proprio della storia della Lega perché il reddito di cittadinanza non era proprio io preferisco ridurre le tasse a chi lavora e a chi crea lavoro però avevo dato una parola e l'ho mantenuta se gli altri faranno lo stesso ultimamente non è così sull'autonomia sulle tasse sulla sicurezza non vorrei che qualcuno volesse riaprire i porti che io faticosamente in 11 mesi ho riportato sotto controllo se tutti mantengono la parola data si va avanti Di Maio ha detto io sarò intransigente sulla corruzione su questa questione facendo capire che su quella può cadere il governo qual è invece la sua linea di demarcazione su che cosa è intransigente? parte il fatto che siamo tutti contro la corruzione siamo al governo per metterli in galera i mafiosi i corrotti e i delinquenti anche perché io non ho mai chiesto le dimissioni del sindaco di Roma che è stato indagato per uno o due anni quindi fai il sindaco fallo meglio se è possibile però nessuno ti chiede nulla sui temi lavoro tasse e immigrazione sarà intransigente che sono fondamentali se qualcuno mi dice se cambia idea sull'immigrazione no cambia idea sulla riduzione delle tasse no perché far correre l'Italia dar lavoro ai giovani è fondamentale grazie al ministro dell'interno vice premier Matteo Salvini buon lavoro qualche minuto di pubblicità e proseguiamo anche sulla scorta delle cose dette da Salvini la nostra puntata di oggi tra poco grazie a tutti grazie a tutti